Cthulhu Ftang, Cthulhu Ftang, che è la maniera migliore per iniziare il video, consentimela. Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco che sinceramente, quando l'ho visto su Kickstarter un po' ho arricciato il naso e poi vi spiego anche perché, però poi leggendo un po' di interviste anteprime, guardando proprio la pagina della campagna Kickstarter, volevo veramente da morire. Vi parlo di Cthulhu, Death May Die, gioco dell'Akmon e portato in Italia da Asmo d'Italia, che ancora una volta ringrazio, grazie ragazzi di cuore, sempre tempestivi, ogni volta che esce una novità subito che ce la mandate e grazie veramente di cuore ad Aurora, come ti ho detto poi anche di persone a Luca Comics, grazie veramente, è un onore e un piacere sempre collaborare con voi, grazie ragazzi. Parliamo ovviamente di Cthulhu, parliamo di miti di Lovecraft, di creature, progeni stellari, demoni dalle sembianze di pesci, uomini pesci e cose varie, insomma, non vi racconto niente di nuovo, l'ambientazione è sempre quella che abbiamo visto in tanti giochi, come ad esempio Le Case della Follia, Arkham Horror, Eldritch Horror, oppure anche Arkham Horror e Le Case della Follia come gioco di carte, l'abbiamo già visto in tantissime giochi da tavolo del tipo, sia da tavolo che di carte, per non parlare poi di GDR, argomento trattatissimo, tipo, l'abbiamo visto, L'Alba di Cthulhu della Serpentarium, oppure altri giochi di rollo come appunto Il Richiamo di Cthulhu, di Call of Cthulhu. Ora, la cosa che mi fa ridere, e anche per questo avevo detto che all'inizio non mi aveva attirato, però poi appena ho visto la mole di cose, ragazzi, l'Akmon fa sempre delle osi disumane, ma questa è la valutazione finale del cosa ne penso, quando l'ho visto inizialmente ho detto, cioè, fa ridere che Lovecraft sia morto a Rhode Island, no? Povero in canna, senza una lira, che i suoi, sì no, come scrittore era già rinomato, sia chiaro, eh? Non famoso come oggi, però era ancora rinomato, ma è morto, povero in canna, con due o tre amici, non se lo cacava nessuno, e oggi vedere che escano tutti questi giochi, tutti questi temi, fumetti, libri game, cioè se Lovecraft fosse nato cent'anni dopo e oggi fosse ancora in vita, sarebbe l'uomo più ricco del mondo, però molto probabilmente, tanto è sempre così, si aspetta che qualcuno muoia per far diventare famose le sue opere, ora, ovvio, di Lovecraft si parla a cavallo fra l'800 e primi del 900, quindi voglio dire se era ancora un pochino all'indietro, però comunque, fosse stato vivo oggi avrebbe fatto un casino di soldi, e in Tulu Death May Die si trova un gioco che io da regolamento ho apprezzato da morire, perché, uno, mi è bastato leggere il regolamento per capirlo subito, di solito, poi magari ci stanno gli errori, eh, nelle regole e tutto, però, per capirlo subito, a differenza di altri giochi, perché, a differenza di Arkham Horror, che è basato al 90% sull'investigazione, su risolvere i problemi sulla mappa, e per ultimo, ma per ultima cosa a combattere, si va verso le case della follia, che è a metà fra l'investigazione, i combattimenti nella seconda parte dell'avventura, con il risveglio dei miti o dei cultisti, però con nel mezzo tantissima narrazione, quindi la componente narrativa è immensa. Qui, invece, si passa in un gioco dove la componente narrativa è importante, l'esplorazione è importante, però la parte più grossa del gioco sono, appunto, i combattimenti, perché in questa versione qui dovrete smitragliare cultisti, smitragliare demoni, mostri, progeni stellari, ma dovrete anche smitragliare gli antichi, quindi, nella scatola principale, come vi farò vedere, all'interno ci sono Tulu, come demoni maggiori, e Hastur, che è il re giallo, per chi di voi, come a me, ha seguito o ha adorato una delle mie serie preferite, che è True Detective, avrà sentito parlare di questo re giallo, tutto roto intorno a lui. E ovviamente anche True Detective, prima stagione, bellissima, hanno voluto fare comunque un richiamo e un omaggio a Lovecraft con le sue creazioni e quant'altro. E il gioco è da 1 a 5 giocatori, scala anche tranquillamente bene, 14 o più di età, non perché sia difficile, regolamente sembra di giocare a dire questa alla fin fine, però forse per i temi, contenuti qui dentro demoni e cose varie, insomma, un pochino non è da tutti, 90-120 minuti, sì, come durata ci sta, e poi ci sono la bellezza di 45 miniature fatte veramente da paura. Unboxing, guardate la scatola, colori molto cupi, spenti, ovviamente è un classico, la mano, le mani, cioè veramente disumana, pesa un casino, tante alla mole di contenuto, di roba che c'è all'interno, e poi bellissimo, il grande Cthulhu, il dormiente di Rayleigh, e guardate bello, c'ha gli occhi addirittura sulla scatola in rilievo. Mi piange il cuore tutte le volte e parte un Kickstarter, dunavecci mai, Nadira in tasca, perché nel Kickstarter di questo c'era Cthulhu, ragazzi, ve lo metto qui accanto con un'immagine per farvelo capire, c'era Cthulhu ad altezza bambino, e vi giuro non sto scherzando, sarà stato alto quanto, amore, in tutto? 50 centimetri? Eh sì, tutto. Alto, veramente faceva paura che a dipingerlo ci voleva l'aerografo, lo dovevate portare in verniciatura, in qualche carrozzeria. Veramente bellissimo. Apriamo. Schede dei personaggi, che poi vi vado a descrivere, sono un bel po', ce n'è veramente tanti personaggi, ce n'è per tutti i gusti, dal classico investigatore, combattente, per arrivare poi a una suora, con una doppietta, un cortello. Posso dire tutti così, Lesorio? Menomale che è classico, perché si vede tutti i giorni una suora con la doppietta. Effettivamente, mia moglie ha ragione. Regolamento di gioco, fatto a striscetta lunga. Ragazzi, è veramente una cavolata. Le regole sono fatte bene, sono fatti veloci, ora, l'Akmon non ci impazzisce mai nel fare regolamenti. Forse ogni tanto qualcosa di leggermente più complesso, come Massive Darkness o anche Kick-Ass, ma per il resto, comunque, sono sempre regolamenti veloci. Plancia di missione, in cui dovete mettere, questi qui sono i vari step per l'entrata del demone maggiore, tipo, comunque, Cthulhu o Astur, nel primo gioco. Per quanto hanno ci annunciato altre due o tre espansioni, perché vogliono mettere, ovviamente, Dagon e tutti quanti le divinità maggiori, le vogliono mettere tutte quante dei cicli, appunto, di Lovecraft. E questo qui è per tenere conto da quando andrà in campo a quando verrà evocato e la partita sarà finita. E poi qui ci sono gli spazi per mettere tutte le carte, tipo carte avventura, carte mostri e tutto quello che c'è da mettere. Questa qui è una plancia per il setup della missione. Tile di gioco, vedete, stanze, come nelle case della follia. Poi, qui accanto, vediamo segnalini punti ferita e token vari, che comprendono anche scale, passaggi segreti, fiamme e quant'altro. Insomma, tutti gli altri simboli, portali di evocazione e tutto quello che serve. Partiamo dal piccolo. Qui abbiamo le cartelle cliniche dei pazienti. Ovviamente, mazzetto di carte da gioco. Poi abbiamo i due grandi antichi del gioco base, che sono Cthulhu e Astur, che sarebbe il re giallo. E poi qui abbiamo tutti quanti gli episodi della prima stagione, perché questo gioco sarà diviso in stagioni. E le espansioni che usciranno saranno la stagione 2, la stagione 3 e quant'altro. In questo, quelle che trovate... Ah, sia chiaro, non è un legacy il gioco, eh? Quindi le potete rigiocare tranquillamente, anche perché non ci sono cose segrete qui dentro che non dovete sapere comodamente. Ora poi vi faccio vedere, li hanno divisi così in scatolina, perché quello che dovete usare per la missione è soltanto quello che è contenuto qui dentro. Non dovete usare nient'altro, solo quello che è contenuto qui dentro, a livello di carte e quant'altro, anche di mostri. E quindi è diviso in 6 capitoli. Poi abbiamo, ora ve li faccio vedere ovviamente, i due grandi antichi, abbiamo altri demoni maggiori, e poi qua giù i personaggi. Vi faccio vedere un pochino di cose. Cthulhu, Ftang. Cthulhu, ce la farò senza romper niente. Con le carte. La carta del grande dormiente di Rayleigh. Guardate bella. Segnalini vari. E poi all'interno, ora ve li fa vedere mia moglie da vicino, abbiamo, prima parti dal piccolino che è la progenie stellare, faglielo vedere, che poi piccolino, piccolino, una scatolina piccolina, perché guarda lì, guardate ragazzi, la cura per i dettagli che al solito c'ha l'Akmon. Disse bene chi lo disse, l'ho letto in una recensione italiana, non mi ricordo su che sito, sono belle perché sono roba da collezione, roba che dipingili puoi anche esporre in vetrina. Infatti a Luca l'hanno fatto, l'asmo d'Italia, ma la cosa più bella ragazzi è che uno a volte dice, eh però questi giochi costano 90, 100, 120 euro, 150. Sì, però a livello di contenuti che c'è all'interno e di miniature che ti porti a casa, ragazzi guardate cos'è questo Cthulhu. Questa è la pedina di Cthulhu, a parte quella gigantesca che vi ho fatto vedere all'inizio, questa secondo me è la pedina più bella che abbia mai visto. Cioè, guardatela, mostruosamente bella. Poi vabbè, per un fanatico di Lovecraft è tutto. Poi abbiamo Hastur, che è il re giallo, e questa è nello stile mio, mi piace più di Cthulhu, ma non perché sia più bella la pedina, perché boh mi risveglia qualcosa, ve l'ho detto forse True Detective. Le carte che ci sono dentro, le carte mito con i cultisti e quant'altro. Poi abbiamo ovviamente la carta del grande antico, di Hastur. Tutti quanti i token che serviranno a lui nel caso scegliate di metterlo in gioco. I cultisti di Hastur, che in questo caso qui, vedete, sono delle specie di Tug, con un cappuccio, una tunica e un Thompson in mano. Anche la cura per queste miniature piccoline è veramente, veramente bella. E poi abbiamo la miniatura più bella, ragazzi, concedetemelo. Sì, magari Cthulhu è quella più iconica, è vero, ma guardate questo qui. Cioè, volendolo potreste usare tranquillamente anche in Deep Madness. Guardate, l'uncima la montagna fatta completamente di tentacoli e poi c'è lui, il re giallo. Mamma mia. Se l'aveste visto a fine serie Matthew McConaughey si sarebbe cagato addosso, eh? Mi sa, secondo me. Bellissimo, ragazzi. Bellissime le miniature. Altri mostri particolari. E ovviamente, ragazzi, l'unboxing di questo video sarà leggermente più lungo, ma perché c'è da mostrarvi veramente di capolavori di pedine, bellissime. Guardate questo qui. E poi c'è quest'altro. Porco mondo, ragazzi. Che roba. Che roba veramente. Dirvi bellissima sarebbe veramente sputarci sopra e spreciarlo. Qualcosa di indescrivibile. E di questi ce n'è due. Che dovrebbe essere il vampiro delle fiamme, vampiro del fuoco, qualcosa del genere. Che i vampiri, Lovecraft, se li immaginava, un po' strani. Questi sono i vari capitoli. Vi facciamo vedere poi il setup del capitolo numero uno dell'episodio uno della stagione uno, poi c'è l'episodio due della stagione uno e tutti gli altri. Come vi ripeto, sono sei. Tanto, ragazzi, non c'è spoiler, eh, perché sono semplicemente divisi qui per fare un setup veloce. Ecco, anche l'organizzazione dentro la scatola, già lì, gli do un voto dieci all'ACMON, perché perlomeno è tutto diviso e non rischi di perdere nulla. Occhio, quando le andate a mettere a posto i capitoli, ricordatevi di metterli nella sua scatolina. Abbiamo le pedine dove metterci dentro le miniature degli investigatori, i dadi da gioco che sono dadi neri di base più dadi verdi per varie abilità. Abbiamo un pochino di investigatori che vedete qui per farvene vedere qualcuno e la suora che avevo detto all'inizio, quella cattiva cordoppiettone. Dentro abbiamo questi segnalini col tentacolo divisi per colore che sono segnalini che servono per segnare caratteristiche, abilità ed altro, divisi per colore per ciascun giocatore e poi ovviamente abbiamo altri creature che viene da chiamarli demoni per quanto non sono mai citati come veri e propri demoni da Lovecraft ma come creature aliene. Guardate anche queste che bellezza disumana. Proprio non hanno non hanno badato veramente a spese per fare queste miniature che sono di una fattezza bellissima. e poi in fondo ultimi ma non meno importanti vedete che ci sono tutti quanti i cultisti. Eccoli qua in fondo e questi qui sotto. Vi facciamo una carrellata del campo che praticamente questo è il setup tranquilli non è un gioco legacy è il setup del primo episodio della prima stagione come vedete e abbiamo messo in campo Hastur e tutti quanti i suoi servitori. Quindi questo qui è il setup della prima missione che è uguale sia nel caso scegliate Cthulhu o il re giallo però noi abbiamo scelto il re giallo quindi potrebbero capitare carte con i cultisti appunto di quel di quell'antico maggiore. E ora vi facciamo vedere un po' che non funziona. Partiamo con la scheda del giocatore in questo caso abbiamo scelto partita 2 mia moglie che tanto poi vi rifaremo direttamente in live per farvi vedere bene come funziona comunque Rasputin e la sorella Beth quindi dovete prendere prima cosa la miniatura corrispondente alla carta la plancia e poi dovete mettere i 6 segnalini uno sulla sanità mentale all'inizio del tracciato uno all'inizio del tracciato qui sotto della vita e un altro all'inizio del tracciato della tensione e poi ciascun personaggio ha 3 abilità che sono un'abilità la vedete questa qua giù che è sempre la prima in alto del personaggio e altre che sono abilità pubbliche che magari potete ritrovare anche in altri investigatori comunque anche questi cursori dovete mettere su tutte e tre le abilità a livello 1 cursori che si potranno spostare quando andrete a guadagnare punti esperienza quindi questo è il setup iniziale ricordatevi che il primo tracciato in cima è la sanità mentale che non può mai mancare in un gioco di Lovecraft questo sotto è per la tensione che serve per ritirare dadi quando andrete a fare dei tiri di dado che poi vi faccio vedere dopo a seconda della tensione che avrete potrete spendere uno di tensione e avanzare sul tracciato della tensione per ritirare uno o più dadi ovviamente per ogni punto attenzione ritirate un dado punti ferita non ve lo sto nemmeno a dire vi portano verso la morte e poi di setup di partenza ciascun personaggio prende rivelata ma non ancora applicata una carta sanità mentale che vedete qui quindi il vostro personaggio comunque casualmente perché l'andrete a mescolare avrà già un malus a livello cognitivo di partenza ma che non sarà in campo questo malus qui si attiverà quando il contatore della sanità mentale si sposterà vedete ci sono questi pallini rossi qua giù questi cerchetti rossi quando il contatore si sposterà qui il vostro personaggio attiverà quella carta carta che rimarrà attivata per tutta l'avventura mentre invece quando passerete mentre invece quando guadagnerete punti sanità mentale in questo gioco prendere punti sanità mentale quindi andare verso la follia che vi condurrà alla morte si può morire per pazzia o per punti ferita per ferite e sanguinamenti vari quando arriverete su questi cerchi rossi prenderete anche un punto abilità e un dado in più ogni volta che arrivate su uno di questi cerchi rossi nel primo prendete la carta che vi dite sanità mentale e alzate di uno un'abilità quella che vi pare a voi la dovete alzare ovviamente allo step successivo andando ancora avanti nelle tracciate finendo qui vedete che c'è un dado verde quindi non solo prenderete ancora una volta un altro punto abilità quindi potete tirare su un'altra o portare avanti questa allo step 3 ma prenderete anche un dado verde che potrete perché si fa conto che mano a mano che è impaurito e teso il personaggio cerchi di essere un po' più focalizzato su quello che sta facendo passando qui non ci sono dadi da guadagnare ma prendete un altro punto abilità e poi le successive prendete sempre un altro punto abilità e dadi da utilizzare nelle prove ricordatevi ragazzi che quando prendete l'abilità successiva si applica quella successiva e non quella prima ma almeno che non ci sia scritto perché se non c'è scritto niente voi continuerete ad usare sia quello lo step dopo il grado 2 appena ottenuto che ancora il grado 1 quindi tanto vi basta leggere qui per capire un po' come funziona e da questa parte semplicemente vedete l'elenco delle azioni invece in queste caselle qui dovrete mettere le carte scoperta che ora poi vi dico scoprirete durante il turno del gioco e da quest'altra parte uguale le carte scoperta quindi vi servono praticamente per metterle sotto infilarle sotto ed avere dei vantaggi da portare avanti per tutta la partita abbiamo il mazzetto delle carte mito che sono mescolate tra le carte mito dell'avventura cioè scusate dell'episodio 1 della prima stagione e le carte mito del grande antico che avete scelto nel nostro caso il re giallo Astur poi nel setup iniziale nel tracciato vedete nella plancia dovete mettere nel primo step che è lui Astur e nel caso lui invece dovesse essere evocato come vi farò vedere dopo e dovesse entrare direttamente in campo e quindi si muoverà sulla mappa di gioco come in qualsiasi altro mostro continuerete sul tracciato invece con questo disco questo simbolino comunque di partenza c'è lui poi la carta dei vari stadi del mostro quindi quando il mostro sarà evocato ed entrerà nel mondo dei mortali dovrete combatterlo e distruggerlo per tutti quanti i suoi stadi quindi ciascun mostro ciascun scusate grande antico dovrà essere abbattuto cinque volte nei suoi vari stadi e ogni volta che distruggete lo stadio lo stadio dopo è lui ancora più potente che ha nuovi poteri e che praticamente ha sempre più punti ferita poi i cultisti del suo culto i mostri a seconda dell'avventura che abbiamo scelto che sono il biachi e il vampiro del fuoco che saranno presenti in questa avventura anche loro con sottoscritti le abilità e cose varie e poi le carte scoperta qua giù che sono praticamente quello che scoprirete investigando nella mappa e in più sono carte che a volte vi potrete tenere che vedranno dei bonus e dei vantaggi mappa di gioco tabellone che poi si espande ragazzi c'è anche un'altra piccola cosa da cui partono i cultisti ma a noi non ci interessa tanto quello che c'è qui tutto l'essenziale per farvi vedere come gira e funziona il gioco ovviamente zona di partenza degli investigatori stanze vedete questa è una stanza questa è una stanza questa è una questa è un'altra sono divisi sempre dalle porte e per essere connessi devono sempre avere una freccia nelle due direzioni poi simbolini del fuoco perché nella prima missione ci sono delle zone incendiate laboratori che nella prima missione andranno nel primo episodio andranno distrutti portali magici di colore blu e giallo a seconda dei vari spawn che ci potranno essere e poi qua giù delle scale scale che sono connesse con l'altra porzione di mappa cultisti normalissimi cthulhu tang vedete qua giù e qui c'è un bel biachi che vi attende ora nel setup vedete che c'è anche questa è la carta che abbiamo utilizzato inizialmente per fare il setup di mia moglie girandola dall'altra parte vi dice descrizione ovviamente storia parte narrativa leggetela che è veramente interessante azioni che si possono fare in questa mappa in più rispetto alle azioni dei vostri personaggi investigatori quindi queste in fondo sono le due azioni che potete fare in questo caso estinguere il fuoco quindi spengere questi segnalini qui e toglierli o distruggere equipaggiamento nella fattispecie distruggere laboratori perché in questa missione come qua giù vi dice appunto i vari obiettivi dovete distruggere laboratori per fermare il rituale quindi distruggere 4 dei 5 laboratori presenti perché se no ovviamente il grande antico arriverà può arrivare lo stesso però avranno vinto la partita e poi qui sotto c'è scritto quando il grande antico avanza che cosa succede nella fattispecie ogni volta che lui avanzerà Astur che abbiamo scelto metterà un segnalino fuoco in una zona dove sia presente almeno un cultista e dove non sia già presente almeno un altro fuoco e questo è il setup iniziale ora ciascun giocatore all'inizio noi prendiamo la suora con la doppietta e il rush putin con la fiamma in mano e come vi ho detto partono da qui ciascun personaggio ha tre azioni tre azioni che possono essere ciascuna di queste azioni può essere fatta più volte è chiaro quindi potete fare anche tre volte la stessa comunque sono corsa ovvero spostarsi che sarebbe il movimento lo chiamano corsa ma un movimento potete spostarvi fino a tre caselle quindi per ciascun movimento voi fate fino a tre caselle di movimento poi attacco ovviamente se entrate in una casella e volete attaccare un mostro presente riposo che praticamente restate fermi nella casella però per fare il riposo la casella deve essere sicura quindi senza nemici potete riposare quella casella lì e riposando potete guadagnare punti sanità mentale ragazzi non li prendete più quindi teneteveli cari però potete riguadagnare tre punti misti fra punti vita e tensione quindi nel caso non tre vite e tre tensione però nel caso fate nel recupero due di vita e uno di tensione oppure non lo so due di tensione e uno di vita oppure tre di tensione e quella l'azione di riposo o se no potete fare un'azione di scambio quindi siete nella casella con un altro giocatore vi scambiate oggetti non vi potete scambiare alle inazioni mentali quelli no però oggetti vi potete scambiare assolutamente tutto e poi ci sono le azioni dell'episodio come vi ho detto le azioni che sono descritte qui perché anche queste due contano come azione regola vuole che quando un investigatore si muove in una casella con dei mostri non c'è una regola che dica per scappare subita un attacco di opportunità come in tutti gli altri giochi voi semplicemente andate via dalla casella quindi io da qui faccio il primo movimento e mi muovo qui mostri mi muovo nella casella dopo e i mostri che sono in quella casella seguono il giocatore e ora ne ho beccato un terzo quindi se lei decidesse di fare il terzo movimento e finire l'azione qui tutti quanti i mostri la seguirebbero quindi i mostri si incollano al giocatore stessa regola se lui si muove per primo facciamo conto che Rasputin si è mosso per primo e va qui e lui ovviamente è ingaggiato con questi due se la sorella dovesse passare qui anche lei sarà ingaggiata se lei si dovesse spostare i mostri la seguiranno quindi i mostri seguono non sono mai ingaggiati con un solo giocatore ma seguono sempre l'ultimo giocatore di turno ovvero quello che passa nella loro casella e va oltre quindi andando oltre ancora una volta anche se qui c'era Rasputin lei se li porterà tutti quanti dietro e questa è la regola del movimento zone infiammate incendiate ovviamente quando ci finite sopra prendete un segnalino fuoco che non quella terra quella terra lasciatecelo sempre prendete un altro segnalino fuoco dalla riserva e lo andate a mettere sulla scheda del personaggio alla fine del turno del vostro personaggio per ciascun segnalino fuoco che avrete che potrebbero essere uno, due o tre andrete a tirare per ciascuno un dado nero nel caso esca ora vi faccio vedere i simboli un colpito subito una ferita da fuoco nel caso invece dovesse uscire un tentacolo prenderete un punto sanità mentale quindi andrete avanti nell'esperienza e nella follia questi altri simbolini che sono qua giù sono laboratori che vedete in questa missione qui semplicemente dovete andarci nella stanza ripulirla da tutti i possibili cultisti che ci sono e una volta libera la stanza dovete andare a distruggere questi laboratori e nella missione attuale per distruggere un laboratorio ha quattro ferite quindi voi andate a tirare i dadi che ciascun personaggio di partenza ne ha tre ok? tutti tutti quanti gli investigatori di partenza hanno tre dadi dadi che però potete incrementare prendendo abilità nuove come vi ho detto abilità oppure personaggi speciali che vi seguono alleati e quant'altro quindi potrebbero essere tre ma magari a metà partita potrebbero essere sei se non sette o anche di più quindi voi andate a tirare i dadi e una volta che avrete fatto quattro ferite le ferite ragazzi vi ricordo che sono il punto esclamativo quattro ferite e distruggerete il laboratorio ora regola vuole che i risultati sui dadi sono un colpito sia per voi ah i dadi sono sia per voi che per i mostri quindi non c'è differenza un colpito o se no un tentacolo e quando esce un tentacolo automaticamente avete preso un punto sanità mentale quindi un punto follia un simbolo speciale che lì per lì non vuole dire niente però magari se avete un'abilità che si attiva con questo sia voi che il mostro o una carta speciale che si attiva con questo attiverete tale potere e poi un colpito però con una sanità mentale e un mancato un niente di fatto e i dadi anche verdi riportano gli stessi simboli quindi un colpito un effetto speciale nel caso sia presente o un colpito e un'alienazione mentale o semplicemente da solo un punto follia queste qui sono tutte quante le meccaniche poi dal portale blu e dal portale giallo saranno sempre le zone dove quando il gioco vi dirà dovete esponare mostri i mostri sponeranno sempre in queste zone qui quindi le azioni che potete fare come vedete sono il movimento che qui si chiama corsa attacco l'attacco ragazzi banale dirvelo sono in corpo a corpo con una creatura un cultista vado a vedere le sue caratteristiche che in questo caso sono queste qui segnate sulla scheda vedete magari potrebbe avere un'abilità speciale e tutto se no di base il cultista ha due punti ferita e vedete tira due dadi verdi quando io nella mia azione sono né in corpo a corpo con lui vado a tirare i miei dadi più dadi verdi delle varie abilità che potrebbero venire quando gli avrò fatto uno più punti ferita glieli segno accanto e quando arrivo almeno al massimale dei suoi punti ferita che in suo caso è due lo uccido e lo levo dal campo di battaglia stessa cosa quando sarà uno dei mostri loro potranno attaccare me e fare uguale non ci sono parati in questo gioco ricordatevi non ce ne sono l'unica cosa è che quando vi attaccano per ogni simbolo colpito o quando attaccate voi che viene fuori è un punto ferita con regola vuole che a seconda della potete spendere punti tensione quanti ne volete ve li potete bruciare anche tutti in un turno tanto poi riposando come vi ho fatto vedere li recuperate con la tensione vi permette di ritirare un dado per ogni punto che spendete quindi questo magari è venuto fuori un tentacolo e io dico eh no io un punto sanità mentale non lo voglio prendere questo dado lo ritiro cosa è venuto fuori un'altra sanità mentale va bene rispreco un altro punto tensione lo ritiro una sanità mentale e un colpito quindi faccio va bene stavolta mi fermo se no finisco tutti i punti tensione sono riuscito a prendere un'altra volta un punto sanità mentale che sculo che ciò ma ho fatto un danno al mostro e quindi magari il mostro aveva già una ferita gliene metto una in più e il mostro è morto e abbiamo liberato la zona quando la zona è libera potete fare l'azione di ricerca che ora vi faccio vedere come funziona ricordatevi sempre che quando finite non quando finite il turno in una stanza con un fuoco non è che se voi finite il turno qui dentro non è che prendete il danno fuoco il danno fuoco lo prendete soltanto quando lasciate la stanza con il fuoco quindi quando voi entrate qui non lo prendete ma quando voi lascerete questa stanza automaticamente vi dovete mettere un segnalino fuoco sulla scheda e queste sono le azioni che si possono fare nel turno del giocatore fatto questo si va nella fase dei miti proprio nel più scontato dei giochi di Lovecraft che sono le carte che vi ho fatto vedere all'inizio sono quelle di partenza ok dell'episodio della stagione più quelle del grande antico che in questo caso è Astur io ne vado a pescare una se ne rivela sempre una e una soltanto ragazzi ricordatevi si rivela e si guarda cosa c'è scritto potrebbero queste cose fare riferimento che ci sono scritte sotto a il giocatore attuale o tutti i giocatori in campo quindi comunque la descrizione leggetela sempre quando invece su una carta mito vedete questo segnalino la carta va scartata quindi fate sempre una pila degli scarti abbastanza larga però va messa va scartata e va tenuta in una posizione particolare perché quando c'è questo simbolo rosso che vi ricordo che è lo stesso sul gettone del grande antico voi dovete metterla da parte ogni volta che ci sono tre o più carte con questo simbolino quindi nel caso vedete anche in quella dopo del re giallo è uscito qualcosa in quella dopo addirittura ne è uscito un altro ogni volta che fate un tris di questi simboli dovete levare le carte rimescolare tutto quanto il mazzo di miti quindi le levate le rimettete a posto e dovete muovere il grande antico di uno sul tracciato quindi nel caso Astur lo muoveremo di uno lo spostate al pallino dopo vedete si sono divisi in cerchietti a quello dopo quando arriva all'ultimo del verde e nella mossa successiva arriva in uno rosso lo togliete da qui ci mettete direttamente il simbolino che continuerà ad andare avanti con le stesse regole e ricordatevi che quando il segnalino arriva qua giù in fondo la partita è persa quindi il segnalino qui non ci deve arrivare lo dovete distruggere prima comunque quando lui arriverà ad essere evocato nel pallino qui in rosso ci metterete quest'altro e a seconda di dove vi dirà la sua carta stadio 1 che sono queste qui dovete andarla a leggere tutto quanto perché questa sarà la prima carta di come comparirà il demone ovviamente sul campo di battaglia voi lo dovrete andare a posizionare sul campo ovviamente anche lui sponerà da un portale o da una cosa varia diventa un mostro a tutti gli effetti e le caratteristiche di Astur sono scritte sulla sua carta quindi ve l'ho detto nei vari stadi diventa sempre più forte e voi lo dovete abbattere in tutti gli stadi se lo abbattete allo stadio 1 dovete passare al 2 se lo abbattete al 2 dovete passare al 3 e così via fino a distruggere una volta per tutte sulle carte mito c'è anche scritto da quale portale compariranno i mostri e quale mostro quindi qui dice evoca cultista in un portale giallo quindi voi andate nel portale giallo e ci andrete a mettere un cultista queste sono le regole della fase dei miti finito il turno dei giocatori quindi quando ciascuno ha fatto 3 azioni se vi trovate in una casella con un mostro il mostro vi attacca il o i mostri ovviamente i nemici gli NPC vi attaccheranno e anche loro vi attaccheranno con le caratteristiche che ci hanno tirando dei dadi mettiamo caso il nemico tiri un colpito vi fa un punto ferita uno speciale non vi fa niente almeno che non abbia attacchi speciali legati a questo simbolo se dovesse uscire un simbolo follia non vi fa ferite ma vi da un punto follia e vi ricordo che la follia ragazzi serve a perdere la partita ma allo stesso tempo la follia ogni step vi da quasi sempre un nuovo dado da attirare verde e in più oltre al dado verde da attirare vi fa fare anche uno step sull'arbero dell'abilità se invece finite il turno in una casella dove non ci sono mostri ah ovviamente mi sono dimenticato di dire una cosa nella fase dei miti ok c'è anche scritto come si muoveranno i mostri e che tipo di mostro si andrà a muovere quindi anche questa leggetela sempre che è una cosa molto importante perché se venisse scritto che si attivano i cultisti ad esempio i cultisti avranno tot mosse tot movimenti e si muoveranno sempre in direzione del giocatore più vicino quindi come anche in zombie sai dei giochi del genere quando li dovete muovere faranno la strada più breve per arrivarvi in corpo a corpo e questo è l'azione di combattimento banale dirvi che quando il vostro personaggio arriva a sanità mentale zero o a punti ferita zero è rimosso dalla partita con tutte le sue carte ed è morto se invece vi trovate da soli a fine turno in una casella e anche i mostri muovendosi o non muovendosi non vi arrivano a corpo a corpo vuol dire che la zona è sicura quando la zona è sicura voi automaticamente dal mazzo delle scoperte che è questo qua giù ve lo metto qui voi dal mazzo delle scoperte non è un'azione si fa sempre a fine turno girate la prima scoperta e leggete cosa c'è dietro c'è una parte narrativa e magari una prova o qualcosa da fare ai lati ci saranno sempre o un oggetto vedete ne posso prendere anche un'altra che nella fattispecie invece ha due opzioni vedete da una parte c'è una condizione di qua e da una parte invece c'è un compagno quindi voi questa scheda la prendete l'andate a inserire sotto la vostra plancia di gioco dove vi ho fatto vedere che c'era scritto carta scoperta a sinistra e a destra e decidete una volta avendola risolta per quello che c'è scritto quale dei due bonus tenere questa qui è una carta condizione mentre invece quest'altra di qua potrebbe essere anche una prova che ti dice se fallisci devi prendere per forza una delle due o potreste guadagnare anche un compagno i compagni di solito vi danno un'abilità in più che magari non avete ma la potete utilizzare tramite lui però ricordatevi che il compagno ha un punto ferita quindi quando i mostri vi attaccheranno voi potreste poter dire ok i colpi li subisco io o li subisce il mio compagno che mi segue appena il vostro compagno subirà una ferita morirà e lo dovrete scartare e rimuovere dal gioco non lo potrete più trovare e ovviamente anche la sua abilità speciale che vi aveva appena concesso andrà perduta quindi ricordatevi che le carte scoperta si pescano soltanto quando siete in una zona sicura a fine turno quindi ragazzi il gioco è tutto qui ricordatevi sempre che la parte più importante è dopo aver mosso ci sono la fase dei miti che vi dice quali mostri si muoveranno in che modo leggere sempre gli obiettivi che ci avete da fare sulla missione e ricordatevi che per ultimo dovrete sempre combattere il grande antico perché il grande antico ragazzi bene o male sarà sempre evocato perché io non ci credo che sul tracciato iniziale prima che lui entri in campo voi in quattro turni a distruggere tutti i laboratori non ce la fate quindi sarà veramente rarissimo che finite la missione prima che entri in campo quando entrerà in campo diventerà sempre più forte pronto ad assumere la sua forma finale e distruggere il mondo ah una cosa importante se lui entra in campo è indistruttibile quando il grande antico tocca il mondo reale non lo potete distruggere perché ancora metà strada fra il mondo dei sogni e il reame reale quindi è etereo non lo potete colpire dovete per forza risolvere la missione quindi dovete distruggere i laboratori anche se lui è già entrato in campo dovete distruggere tutti i laboratori come vi dice la missione 4 su 5 a quel punto l'abbiamo fatta la missione si lui non se ne va perché ormai è in campo quindi il portale non lo può più chiudere non può evitare che i cultisti lo evichino però in quel caso lo potrete ferire e ferendolo dovete semplicemente distruggere i vari step stadio 1 poi andate allo stadio 2 poi andate allo stadio 3 e così va e vedete ogni volta che cambia lo step lui ha dei nuovi punti ferita ha dei nuovi da dichettira e delle nuove abilità ragazzi il gioco è praticamente tutto qui poi sicuramente qualche regolina in più c'è però va sicuro il gioco è tutto qui in conclusione è il gioco che volevo è veramente una figata e laddove all'inizio mi ero bloccato come vi ho detto all'inizio del video che dicevo sì però basta giochi di Lovecraft anche Deep Madness alla fin fine che sembra un più di più un Deep Star 6 o una creatura degli abissi ma tanto alla fin fine o un Leviathan scusate però anche questo è sempre Cthulhu cioè ma c'era bisogno di fare un altro gioco di Cthulhu sì se lo fanno così cavolo se ce n'era bisogno perché è veramente spettacolare e poi vi ho detto a differenza delle case della follia o di Arkham Horror o di Eldritch Horror ma l'hanno fatti in duemila modi diversi si chiamano a tutte le maniere questo è più d'azione quindi io ho sempre detto sì mi piace essere un investigatore nell'ambientazione di Lovecraft perché è come nei suoi romanzi però voglio sparare voglio ammazzare io sì io voglio risolvere il caso di chiudere il portale magico io voglio sparare voglio prendere Thompson e Buche dell'Allo a quel cacchio di mostro questo è il gioco perfetto se cercate più un gioco basato sull'azione questo è davvero perfetto al massimo livello e per quanto poi la paura si senta sempre perché non è che come nelle case della follia trovi la donnina che fa Kung Fu e li stende tutti però dipende anche se hai avuto fortuna col personaggio scelto con le carte trovate e questo non è diverso rispetto agli altri anche qui devi calcolare cose fatte per bene però questo è più un film action anni 80-90 capito dove il male si va a combattere a schiaffi a colpi di motosega qui ci stava bene anche Ash nel mezzo quindi l'ho apprezzato veramente da morire perché per quanto non dica basta giochi Lovecraft è il mio idolo il mio scrittore preferito però non ne posso più però se fanno qualcosa di geniale che mette delle cose nuove ci sta assolutamente e poi ragazzi io ho paura anche a prenderlo guardate queste miniature che poi se mia moglie avrà voglia o lo dipinge per i fatti nostri ci faranno speed painting poi vediamo ma comunque lo dipingeremo perché tutto cioè se ci ripenso il detective rust poveraccio è stata una stagione intera di true detective a cercare di capire cosa fosse il re giallo Matthew McConaughey se mi stai guardando eccolo qui il bastardo che ti ha dato filo da torcere regolamento facile veloce immediato poi tabellone contenuto perché tranquillamente cortavolo dell'IKEA la prima volta che mi scentra tutto di un gioco anzi ho ancora spazio libero ci potrei buttare tre cose prima cosa seconda Dio benedica l'Akmon per aver diviso la scatola in maniera eccellente perché la scatola è divisa perfetta ora dovete rimettere tutto a posto per Benino però tutta la roba del capitolo va dentro il contenitore del capitolo e anche se perdete una carta e vi dimenticate qualcosa dietro c'è scritto tutto quello che è presente nel capitolo quindi non potete non c'è il setup in questo gioco tre minuti e mia moglie ci aveva messo quattro minuti e non ci si è mai giocato perché apri qui dietro prendi vele c'è qui dietro lo metti in campo fine non è che aspetta prende quello vell'altro le carte vanno mischiate poi vele vanno divise vanno messe vele verdi o quelle blu quelle gialle ce le levi ma ci metti vele bianche no tutte vele vi serve è qui punto aprite il capitolo e lo giocate e sono altamente rigiocabili perché per quanto si la storia sia sempre quella però ci mettete direttamente un grande antico differente oh e poi una volta potrebbe andare bene una volta male una volta riuscite a fermarlo una volta chiudete il portale prima che entri quindi veramente la difficoltà sta nella partita stessa ora se devo dare un voto a un gioco del genere le do un 9 e mezzo su 10 che sfiora la perfezione gli avrei dato 10 sinceramente però forse sono troppo esigente io forse perché altri giochi mi hanno abituato male gli do un mezzo voto che poi non è nulla però un mezzo voto in meno perché quello che gli mancava per essere il gioco uno dei giochi più belli mai creati in ambito Lovecraft Cthulhu è un'app me l'ha detta anche mia moglie a inizio fa ma questo gioco ha un'app e io no 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 perché è molto narrativo ma è più da botte però ha ragione se avesse avuto un'app tipo le case della follia forse da una parte te l'avrebbe rallentato il gioco perché le case della follia è molto più moscio ma è giusto le case della follia tipo questo picchio ammazza non saprebbe di nulla farebbe schifo voto uno e va bene sia così però magari anche un'app che un pochino ti mette la musichetta qualche suono oppure che ti mette qualche inconveniente ci sarebbe stato bene ecco però lo sappiamo che l'acmon non fa non è molto avvezza alle app a parte app secondarie fatte da fan è più la fantasy flight che fa app per i loro giochi quindi va bene così però magari ecco un pochino d'atmosfera in più ci sarebbe stata bene quindi ragazzi un 9 e mezzo su 10 consigliatissimo da paura lo trovate in tutti i negozi ovviamente che vengono i giochi dell'ASMODE praticamente tutte le ludoteche e tutti i negozi che vendono giochi da tavolo consigliatissimo bellissimo se siete fan di Lovecraft ma come me vi siete rotti i coglioni di giochi di Lovecraft perché a un certo punto non dice ce n'è troppi basta c'ho già le case della follia Eldritch Horror mi bastano questo ragazzi è quello che vi mancava e ve lo dico proprio sinceramente questo è il tocca avanti per chi gli piace un gioco di Lovecraft a botte schiaffi smitragliate questo è perfetto io ringrazio ancora una volta l'ASMODE Italia per averci un offerto questa copia per la recensione ragazzi sono onorato e ve lo dirò ogni singolo video perché ogni volta è un onore sempre maggiore collaborare con voi quindi grazie di cuore per questo bellissimo gioco e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ovviamente primo link in descrizione per acquistarle e tutti i nostri social ciao ragazzi alla prossima